Lei è il referente legale del Comitato Danneggiati e Ignorati che si è espresso nelle scorse settimane più volte contro l'iniziativa Udine sotto le stelle. Perché? Dunque, il referente legale sono io insieme all'Avvocato Roberto Mette, ci tengo a precisare questo aspetto. Ci siamo fatti sentire per le lamentele di molti ristoratori, stiamo parlando di una trentina di ristoratori e oltre 20 persone fisiche residenti nelle vie interessati dalla manifestazione. in relazione a una serie di problemi. Il primo gravissimo che si è verificato anche in questi giorni è la totale assenza di clienti nei ristoratori non interessati dalla manifestazione. Parliamo di locali normalmente pieni di clienti nelle serate cittadine. L'interesse ovviamente è quello di riequilibrare una situazione che appare allo Stato di discriminare alcuni a favore di altri. Non è un problema riferito alle periferie perché molti dei partecipanti di questo Comitato è proprio nel centro, all'interno del centro cittadino. Semplicemente le vie che vengono interessate dalla manifestazione tolgono tutti gli utenti alle altre vie. Il problema quindi non è estendere alle periferie ma trovare una modalità di riequilibrare la situazione. Tengo a precisare un aspetto. Non c'è né una lotta politica né una lotta con gli altri esercenti. Qui stiamo parlando di un problema oggettivo specifico. Nell'unico incontro che abbiamo avuto con l'amministrazione comunale abbiamo manifestato la volontà e la possibilità di limitare Udine sotto le stelle ad esempio a una giornata di ogni weekend. Avevamo detto per noi sarebbe l'ideale la domenica che è un giorno un po' meno interessante per gli esercenti che quindi avrebbe potuto essere beneficiata da una manifestazione limitata ma interessante magari per i cittadini e per l'Interland. La nostra proposta non ha avuto neppure una risposta dall'amministrazione cittadina che non ne ha formulate di alternative.